Marrakesh che, vabbè, non sapevo questa cosa, andando a cercare un po' di notizie sul Marra, si chiama Fabio, non sapevo che, non mi ricordavo, in realtà adesso poi quando l'ho letto ho detto ah è vero, si chiama Fabio lui, quindi pensa, abbiamo anche in comune questa cosa, oltre al fatto di essere entrambi di Milano, Milano che ripeto, nella serie non esce secondo me come dovrebbe uscire. Sono un po' polemico su questa cosa, nel senso che ne esce molto molto bene Napoli, con tutte le sue contraddizioni, con tutti i suoi movimenti, con tutto anche un'appartenenza napoletana a Napoli dei cantanti, dei trapper, dei rapper napoletani, ne esce molto bene anche Roma, nel senso che si va a scovare nelle pieghe di quella città una romanità che rivendica il fatto di essere Roma e di essere il rap romano, che tra l'altro arriva da una grandissima storia, una grandissima stirpe di rapper che la ben rappresentano, tra cui anche un Fabi Fibra che non è di Roma, anzi lui nasce nelle Marche, poi crescerà musicalmente infine a Milano, ma nel suo percorso in mezzo passa per Roma e proprio Roma lui va a rappresentare in questa serie su Netflix. Joliet invece rappresenta la musica napoletana e a Milano abbiamo Rose Villain, che va benissimo, nel senso anzi è molto brava e rappresenta molto bene anche un certo tipo di attitude, diciamo così, internazionale che c'è nella nostra città. Peccato, secondo me, che si è persa l'occasione di portare sul palco tutta quella scena underground che ad esempio qua su Crystal Radio potete anche ascoltare con Voci di Periferia, che è un grandissimo programma che va in onda appunto qui su Crystal Radio, che racconta le voci che arrivano dalla periferia, che arrivano dai ragazzi che vivono quelle zone dove nasce il rap milanese. La cosa che mi ha fatto un po' specie è proprio che questa serie la sto guardando mentre a Milano c'è in scena Jesus Christ Superstar al Sistina Shapitò con Frenkie Energy che dice invece Milano è la culla del rap, Milano può dare tantissimo al rap e in questa serie devo dire che ahimè non esce così tanto di Milano, si vedono solo i grattacieli, si vedono i locali in cui poi viene fatta anche la fase finale perché viene fatta il Fabric qua a Milano, ma ecco quella solita Milano che insomma siamo un po' stanchi di vedere raccontata solo come una nuova Milano da bere, io così la voglio definire, è la nuova Milano da bere, la Milano dei lustrini, la Milano dei grattacieli, la Milano delle riflessioni, delle luci sui grattacieli fatti di specchi e di vetri. Dateci un'occhiata però perché è interessante comunque come serie viene fuori anche tutto un nuovo mondo, appunto la nuova scena che sta e cavalcherà sicuramente le scene nei prossimi mesi, nei prossimi anni.